OST 2021 ci troviamo allo stand di Caffè Moreno SRL, la torrefazione napoletana ormai presente in tutta Italia e in diversi paesi del mondo e siamo in compagnia di Vittoria Percuoco, la responsabile comunicazione e marketing dell'azienda. Vittoria, bentornata dopo 18 mesi. Buongiorno a tutti, siamo finalmente ripartiti dopo due anni di pausa, un periodo difficile per tutti e siamo davvero contenti di riuscire ad essere presenti a questa fiera che è simbolo di ripartenza non solo per noi ma per tutti. Siamo molto contenti. Infatti io sto dicendo a ogni intervista OST 2021 è la fiera della ripartenza. Concordo, assolutamente. Siamo qui anche perché dopo due anni abbiamo avuto tante idee, ci siamo stati lì a pensare, a sviluppare nuovi progetti che per l'azienda saranno molto di valore. approfittiamo per presentare la nuova cialda compostabile che è simbolo di riciclabilità e sostenibilità che oggi nel mondo si parla solo di quello ormai che è composta da carta filtro compostabile, anche il packaging sarà poi riciclabile. Stiamo studiando questo progetto insieme all'ufficio Qualità. Ma non è l'unica novità a cui avete pensato in questi 18-20 mesi che sono stati sì di riflessione, ma che vi hanno visti comunque impegnatissimi nel andare a progettare più cose nell'ambito del comparto caffè e oreca. Certo, come accennavo prima, stiamo studiando un progetto di controllo qualità interno creando un laboratorio nostro con persone qualificate che dal crudo al caffè confezionato ci aiuteranno a migliorare il nostro prodotto che manterrà comunque la tradizione napoletana che è quella che presentiamo come ogni volta in tutte le fiere perché quello che ci contraddistingue è proprio quello, mantenere la nostra tradizionalità che sia in una tazza di caffè espresso e che sia in una cialda. Progetti nuovi anche su miscele nuove, un po' più particolari, dato che il mondo sta cambiando e grazie a questi social comunicazione stiamo avendo tante novità e che si stanno diffondendo sempre di più dal barista alla casalinga e noi puntiamo su qualsiasi persona che ama il caffè e che lo beve tutti i giorni per convivialità. Ma non finisce qui. Esattamente, non finisce qui. Stiamo organizzando e preparando un'accademia, scuola di formazione per baristi che avranno la possibilità di direttamente da noi imparare e formarsi su quello che è il mondo del caffè in generale con ovviamente le nostre macchine, il nostro caffè per poi arrivare ad essere dei professionisti. Questa è l'Italia che lavora. Caffè Moreno SRL è una delle tante testimonianze raccolte qui a Host. Il settore dell'Oreca sta trainando l'economia nel vero senso della parola. Vittoria, grazie. Grazie a voi e ci rivediamo molto molto presto.